Scopriamo Mercedes classe A250e. È una vettura plug-in hybrid, che cosa vuol dire? Che si può ricaricare tramite pressa di ricarica, essendo una vettura ibrida, ed è identificata la targhetta EQ Power. Il motore è un motore 1.3 benzina, da 160 CV, cambio automatico a 8 rapporti, aiutato da un motore elettrico che porta la potenza a 218 CV, il che ci permette di viaggiare sia in modalità ibrida, sia in modalità esclusivamente elettrica, con 70 km di autonomia, in modalità solo elettrica, e delle modalità di recupero avanzato. La carrozzeria di questa vettura si presenta sportiva, poiché è caratterizzata dall'allestimento premium, con linea MG, e la vettura presenta pacchetto night, che rende più grintosa questa carrozzeria già sportiva. Per esempio i cerchi sono verniciati in nero lucido nella parte interna, le cornici dei fenestreni sono nere, anche i vetri sono oscurati, e le calotte dei specchietti retrovisori sono in nero lucido. Anche gli interni sono in una configurazione sportiva, poiché abbiamo l'allestimento premium anche all'interno, tra gli elementi il volante appiattito nella parte inferiore, abbiamo doppi schermi che danno un carattere moderno alla vettura e i sedili sportivi a guscio in pelle microfibra dinamica con cucitura a vista. Troviamo un menu dedicato al mondo dell'elettrico, che si chiama menu EQ, che ci permette di monitorare i consumi, il flusso di energia, l'erogazione della coppia e tra i contenuti anche l'opzione di ricarica per ricercare le colonnine di ricarica in città o lungo un viaggio. Un contenuto molto scenografico di questa classe A sono le luci ambienti, che possiamo modificare anche con la voce. Ehi Mercedes, vorrei la luce rossa. Sto cambiando il colore. Le luci ambienti sono modificabili in 64 colorazioni e corrono lungo tutta la plancia della vettura, anche nelle bocchette da reazione, conferendo alla vettura un carattere molto moderno. Grazie. Grazie.